Dai quaderni di Maria Valtorta del 1943-27 dicembre Dice l'Apostolo Giovanni al piccolo Giovanni Dopo il Maestro e la Madre parlo io pure per darti un insegnamento spirituale Per essere dei prediletti Occorre fare ciò che io ho fatto per ispirazione dello Spirito Santo Fedeltà assoluta che tutto accoglie senza esitazione e senza discussione Purezza di spirito, di mente, di carne, carità eroica Talora Dio ci sottopone a prove che altro non sono che saggi dell'oro dell'anima Siamo destinati a questa dimora che io posseggo presso il mio Dio Ma qui non entra chi nella sua anima porta un anche minimo amalgama di impurità Le prove sono quelle che ci spogliano da quanto è in noi di impuro e fanno del nostro spirito un quarzo senza scorie La fedeltà ci porta a superare le prove senza che esse incriminino la nostra fede e il nostro amore Io ho creduto nel maestro sempre Ho accettato da lui tutto sempre Ho voluto ciò che egli voleva da me prontamente Ho annullato la mia volontà e la mia ragione umana Che ho arse come vittime su un altare perché io fossi ostia degna del Cristo Tutto ho chiesto al maestro mio Non ho voluto di mio nulla Ho chiesto un nuovo cuore Un nuovo pensiero Un nuovo carattere Che fosse suo come il suo E tutto a servizio suo La mia purezza naturale L'ho resa più candida del giglio angelico Tuffandolo nell'amore Per il maestro mio Non pesa l'essere angeli Quando le nostre ali si riposano sul cuore di Cristo E il divenire Serafini a cui l'amore non ha più segreti È naturale conseguenza di coloro che disposano se all'amore incarnato Occorre contrarre queste spirituali nozze Nemmai conoscere orrore di mistico adulterio La carità è la salvezza nostra Poiché ci santifica Trascinandoci nei suoi sublimi vortici E ci perdona Di quanto la carne in noi Contro il volere di noi Commette Poiché è ribelle peso Che è nera al basso Mentre lo spirito Già tratto all'alto Anera e sale Nelle adorazioni di Dio La mia parola a te discepola È la stessa di quella che dicevo ai discepoli di un tempo Ama Dall'amore viene luce Viene vita Viene speranza Viene fede Viene costanza Fortezza Giustizia Tutto viene dall'amore Chi possiede l'amore Possiede lo spirito di Dio E chi possiede lo spirito Ha in sé le sette fonti Che annullano i sette peccati Che impediscono la vita in Dio Nelle tenebre che imperano Porta in te accesa la luce Del mondo Per lei Otterrai il possesso al cielo La pace di Cristo Sia sempre con te Quando ci sono dei passi molto molto belli È sempre per me Un po' Difficile Anche un po' imbarazzante Imbarazzante doverli commentare Perché In parte si commentano da soli Quindi Chi può avere l'impressione che Parola umana Anziché andarli ad arricchire Magari li vada anche a Chissà Impoverire E poi Sono cose talmente Profonde E talmente belle Che Qui ci prenderemo Una decina di Di minuti Massimo Di Di commento Stante Il tenore Di questa breve Meditazione Ma Ci si potrebbe stare Veramente Molto molto a lungo Cominciamo dalla fine Molti sanno Forse anche voi Io tante volte L'ho detto parlando di San Giovanni Che Lui ha A quelle parole Che gli disse Gesù Vi do un comandamento nuovo Che vi chiamate gli uni gli altri Come io Vi ho amati Che in questi termini Sono riportate solo dal suo Vangelo Ah Lui ci ha creduto In serio Al termine della sua vita Qui Ci dice No La parola che dico a te Di scevola La stessa di quella Che diceva di scevola In un tempo Ah Si narra che San Giovanni Ormai Molto molto avanti Negli anni Si dice che morì Intorno ai cento anni O addirittura Forse anche Ultracentenario A chi gli diceva Maestro Dicci una parola E lui rispondeva Amate Amate E poi gli richiedevano Dicci una parola Amate E dicci una parola Amate E un giorno qualcuno Un po' più ardito Dice Scusi maestro Ma lei ci dice sempre La stessa parola Abbiamo capito Amate E poi E poi amate Cosa volete fare di più Chi ama È da Dio Conosce Dio Chi non ama Non ha conosciuto Dio Perché Dio è amore L'ha scritto nelle sue dette Quando è stato Ieri L'altro ieri C'era questa splendida Parte delle sue lettere Perché poi Le lettere sono Un eco del Vangelo Dove diceva proprio Queste cose Io molto Poveramente Nella breve Meditazione quotidiana Sulla Sacra Scrittura Ho detto Dico Cioè È tanto facile Cioè Se Dio è in noi Amare diventa Una cosa Una cosa spontanea Una cosa Leggera Lieve Facile Sia nei confronti Di Dio Che nei confronti Del prossimo Come fa una persona Che ama A trattare male Il prossimo A umiliarlo A mortificarlo A disprezzarlo A ingiuliarlo A prendere la parolacce Non ci sono mai Motivazioni Che giustifichino Queste cose L'onorabilità La buona fama E rispetto Del prossimo Io personalmente Mi sbaglierò Per carità Ma Più tempo passa Più comprendo Che Non ci sono Fini Superiori Per cui Si possa Calpestare Questo Principio La dignità Del prossimo È Sacra Perché Ogni essere Umano È Immagine Di Dio Gesù Lo ama Gesù Versa Fino L'ultima Goccia Di sangue In quella Persona Cioè Quella Persona È importante Davanti A Dio Non è Un nulla Se Quella Persona Si Damnerà Secondo Il nostro Modo Di pensare Possiamo Dire Nel film Di Mel Gibson Si vede Quando Gesù Muore Quella lacrima Che scende Dal cielo E cade Sulla terra E fa scoppiare Un terremoto La lacrima Di Dio Cosa piange Dio Padre La morte Del figlio Sicuramente Sicuramente Ma Oltre che La morte Del figlio La morte Eterna Di quelle Anime Per cui Perfino La morte Del figlio Non le tira fuori Dall'abisso Degli abissi Che è la morte Eterna E chi ama Chiunque veda Anche la persona Più cattiva Della terra Il pensiero Che ha Certamente Non è di dirgli Brava Di dire Continua Che sta facendo bene Io ce ne scambi Ma sempre Di pregare Per la sua conversione Quello che fa la Madonna La Madonna L'abbiamo visto Durante le meditazioni La Madonna E' proprio E' la fotocopia Creata E' lo specchio Terzissimo Senza macchia Di ciò Che Dio E fa San Giovanni Perché Gesù ha dato La Madonna A San Giovanni Perché San Giovanni Era quello Che meglio Aveva compreso Questo pensiero Profondo Questo stile Connaturale Del maestro E' quello Che ci rende Più simili A lui E' quello Che ci rende Più simili A lei Gesù era così Chi Come dire Imbraccia Questa strada Ecco perché Questa è Maria Valtorta Non è Luisa Piccarreta Ma La via Della divina volontà Che è via Dell'amore E' la strada Più sicura Che esiste Nel mondo Ed è quella Più divina Perché è quella Che ci rende Più somiglianti A questi Tratti Allora San Giovanni Dice Guarda Per essere Dei prediretti Occorre fare Ciò che io Ho fatto Per ispirazione Dello Spirito Santo I prediretti Non sono I primi Della classe Cioè Per Per far Innamorare L'Altissimo Perché L'Altissimo Si può Come Come si Autochiam Giovanni Nel suo Vangelo Il discepolo Che Gesù amava Perché gli altri Non li ama Certo che li ama D'accordo Ma il discepolo Che Gesù amava Peranto C'è quello Verso cui si sentiva Cioè L'amore Non diciamo Che similes Consimilibis Quello che sente Delle affinità Elettive No Cioè Noi amiamo di più Le persone Che in qualche modo Ci rispecchiamo Che ci assomigliano Che condividono Il nostro modo Di essere Di pensare No Allora Vogliamo diventare Prediletti In questo senso Mi raccomando Non In sensi forvianti Allora Giovanni ci dà La via Fedeltà assoluta Che tutto accoglie Senza esitazione E senza discussione Sta dicendo Si fa quello che Dio vuole Sempre, dovunque e comunque Senza discutere Senza chiedere Perché Senza indagare Poi purezza di spirito Di mente e di carne Non solo di carne Ma purezza di mente Quello a cui pensiamo Purezza di spirito O di cuore Si può chiamare In un altro modo Che è la purezza Dei desideri Quello Che noi desideriamo Quello a cui noi tendiamo Le prove della vita Anche quella che stiamo vivendo Io faccio spesso Riferimenti a Cosa sono Per noi Saggi dell'oro Dell'anima Vediamo quanto vali Vediamo come reagisci Dinanzi a questa prova Come reagisci Le prove sono delle benedizioni Non sono per noi Delle maledizioni Perché Sono quelle Cito Che ci spogliano Da quanto è noi D'impuro Da tutte le scorie Che ancora ci portiamo Dietro Da tutti gli orpelli Io ho conosciuto Ho sentito Di persone Che stanno vivendo Anche la situazione Comunamente parlando Non gradevole Che stiamo attraversando Come un bellissimo momento Che si ricorderanno Come un momento Di santificazione Non appaia Una cosa Esagerata O stravagante Cioè Io ho conosciuto Persone che stanno vivendo Il guaio E la prova Della pandemia In questo mondo Ci sono La fedeltà Scrive San Giovanni Dice San Giovanni Ci porta a superare le prove Senza che esse Incriminino La nostra fede E il nostro amore La nostra fede Durante la prova Non si chiedono perché Al nostro Signore Ci si abbandona Il nostro amore Non soltanto Ah mi stai facendo soffrire Quindi adesso Non ti amo più Mamma mia Quanto sei cattivo Ma quanto male Ti amo ancora di più Mi stringo ancora di più A te proprio In questo momento Continuo dicendo Io ho creduto nel Maestro Sempre Sempre Ho accettato da Lui Tutto Sempre Ho voluto Ciò che Egli Voleva da me Prontamente Quando il Signore Ci fa capire qualcosa Subito Ho fatto Ho annullato La mia volontà E la mia ragione Umana Quella che vuole sempre capire Quando le cose Di Dio Non si capiscono E come ho fatto Continue Che ci rendono avvelenata Amara La vita E quindi Come conclude Divenire Serafini Serafini A cui l'amore Non ha più segreti Ma è la cosa Più naturale Del mondo E' naturale conseguenza Di coloro Che disposano Un termine italiano Un po' arcaico Se All'amore incarnato Cioè Se la tua vita Ecco perché io Cerco di Cioè Ottimamente insistere molto Sul rapporto personale D'amore con Gesù Se tu ami Veramente Gesù E' impossibile Che non divieni Un Serafini Cioè E' uno che ama E' impossibile Ma Noi amiamo Scrive San Giovanni Perché lui Ci ha amato per primo E questo amore Io lo devo far arrivare Al mio cuore Devo mettermi in condizione Di poterlo vivere Altrimenti io Non lo avrò E non lo darò Spirituali nozze Orizzonte dell'amore E non commettere mai Ad ulteri Ecco perché Concludi dicendo Che cosa Che ti dico a te Discepola Ama E dice Tutto viene dall'amore Tutto La luce La vita La speranza La fede La costanza La fortezza Dice che possiede l'amore Possiede lo spirito di Dio E ci congeda con queste parole E ce le dice a tutti noi Oggi Oggi Nelle tenebre che imperano Porta in te Accesa La luce Noi nelle tenebre che imperano Dobbiamo essere portatori di Luce Siamo capaci La luce significa Che siamo contenti Lo stesso La luce significa Che siamo pieni di fede Lo stesso Anc'anzi Ancora di più E che siamo Pieni d'amore Lo stesso E che portiamo Speranza Non disperazione Non paura Dell'avvenire Non panico Non ci stanno paure Né angosce Per i figli di Dio In giro Ne troverete quanti Volete sapere Quante mail Che dicevo io Di gente Che sta disperata Che per un modio Che per un altro Che sta terrorizzata Da tante questioni Profezie Non è roba Per amici Di Gesù E di Maria Noi riposiamo tranquilli Nel loro braccio E nelle tenebre Che imperano Portiamo Accesa La luce del mondo La luce del mondo È sempre E solo Il nostro Dio E Signore Gesù Grazie